allora ragazzi benvenuti al nuovo canale in cui vi spiego come prima cosa come riuscire ad avere precisamente questa macchina moddata passaggi sono tanti quindi iscrivetevi attivate la campanella così non vi perdete niente e abbiamo questa macchina attualmente non ci sono car to car funzionanti semplici da fare in solo ma ci sono altri metodi che ripeto se vi iscrivete al canale vi spiegherò come vedete i vetri verdi livella nascosta targa yankton luci verdi claxon halloween l'uomo patriottico quindi datemi il tempo di montare tutto e vi spiego come poterla fare anche voi vi anticipo anche che a breve ci sarà un drop di questo veicolo insieme al mio affiliato youtube rilkies trovate il link in descrizione per il suo canale fate un'occhiata anche al suo canale perché vale la pena se vi piace e siete interessati seguitemi bella ragazzi alla prossima ciao a tutti